sono i dieci anni dalla nascita di facebook da parecchio tempo, non sembra niente dieci anni proprio dieci anni, da dieci, dodici anni proprio vabbè facebook 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 non mi riesce proviamo facebook febo fe fe, vedo no fi no no, fi è un'altra cosa fifo fei fei sbuc sbuc perfetto ma che cos'è su feibuc cos'è facebook io la mozza capola baseball non lo posso giudicare perché non capisco quello che sta scritto in l'altro computero non mi ricordo neanche come mi chiamo, figure se mi ricordo cosa mi hanno detto come si chiama? io? si fiorenza l'ha visto o se lo ricorda? è una parola sporca che cos'è? no, non è una parola sporca i buchini no annaz***o, non è credo è quello che cosano quel cosino e cercano ogni cosa ah, il telefono no porco voi eccolo qua no pronto pronto Gesù mille fammi il cagnolino su e che ti faccio i bicetti? si un po' ciaccolare ma poi non è per? ciaccolare per ciacciare si per ciacciare non è un po' ciacciona anche lei? ma lo sono ma non in questo senso ah no io ce l'ho Facebook a me mi piace io gli amici ne ho due gli altri sono conoscenti ma quei due ci faccio affidamento ci sono qualsiasi ora bisogna essere giovani qual è l'età limite del giovane? 75 anni si giovani e muovi per esempio si collegano su queste cose e poi in appuntamento con un altro e si chiudere da Cile e potrebbe uccidere che quante persone si hanno collegato su Facebook su internet ci vediamo si si collegano posso vedere e muoiono a Facebook si mettono le scolte si mettono le ragazze belle e giovani una bella donna una ragazza più giovane lì mi dice la moglie che è più grande d'età e la lascia per quelle se avessi l'amante non ve lo voglio dire eh questo è interessante è interessante sì è arruinato varie famiglie esatto a Facebook vant'è cosa fai dentro? tutte le cose sporche l'angolo può andare a cercare ah mmm per imbroccare un po' ma no lo uso solo per quello riesce a riconoscere belle donne è la prima cosa adesso c'è anche Whatsapp che è importante c'è la trapanarella su Whatsapp ho fatto ridere questa la trapanarella la trapanarella chi? chi? le tope su Facebook è la migliore cosa che c'è al mondo la topa avanti ieri no dai avanti ieri sì 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 la voglio sapere non ce la faccio dimmelo dimmelo me la sono fatta in macchina mentre piovevo azzù beh lei aveva tanta voglia e ho preso una pasticca e borda che volta che gli ho un infarto davvero mettiamo in guardia alla gente no? da che cosa? da tutti questi pedofani che ci sono ci sono molti diciamone uno diciamo a dare dei bucchi no fosse nei cervelli solo computer le ricevo buonanotte le canzoni sono il primo numero uno mi è venuta un articolo che a me non riesco a concepire e che canzoni tutte le classiche con gli strani gli incontri bisogna essere prudenti ho sbagliato io allora come hai sbagliato? ora ho incontrato lei che non conoscevo è strano che la vita è bella non vi drogate tanti auguri a facebook chiudete tutto facebook perché è un macello posso? tanti auguri a te e non ci si trova d'accordo lo vado va alla vicina che è solo una wife i domini si mettono un vestito lo mettono a facebook siamo di fanpage.it si accattano i giubbini mettono i giubbini nella su mi dispiace no no non si preoccupi si fanno i capelli si mettono la fotografia e atterrà molto mi voleva dare 10 centesimi che carina lei è contrario a mettere questa intervista su facebook è una tecnologia desueta internet io vado in un moto più orbitale che vuol dire? beh questo si informa lei si sono contro perché è inutile è una cosa inutile fanpage.it lo conosceva? si facciamo della buona informazione va bene si si lo fa noi la facciamo come fanpage si bravi siete arrivederci grazie tirando le somme a che serve facebook? niente perché a me mi piace la tecnologia perché ha fatto tanti progressi però l'uomo diventa schiavo ok signori benedici grazie a tutti